ciao a tutti bentornati all'oroscopo di stars and the city e soprattutto benvenuti alle previsioni dal 7 al 20 gennaio del 2021 ho deciso di allungare le previsioni circa due settimane perché dal 7 8 gennaio al 20 il cielo sostanzialmente rimane stabile sarà soltanto la luna che continuando a passare ogni due giorni di segno in segno determinerà diciamo che farà un po d'ago della bilancia per determinare o meno determina alcune situazioni le novità diciamo i movimenti celesti i cambiamenti di questo periodo sono che mercurio e venere si spostano e mercurio l'otto gennaio lascia il segno del capricorno ed entra nel segno dell'acquario e venere l'otto tra l'otto il 9 gennaio lascia il segno dell'appassionato sagittario per entrare nell'austero e vuol dire più concreto segno del capricorno quindi ci sono dei dei cambiamenti e poi come già accennato nel video precedente marte il 6 gennaio tra tra il 5 e 6 gennaio lascia il segno della riete ed entra nel segno del toro questa forse è anzi sicuramente è il transito che verrà avvertito di più perché sicuramente il peso specifico di marte dell'energia di marte soprattutto perché si congiungerà a urano si avvertirà tutti noi lo avvertiremo nel nel nostro tema natale sicuramente di più di venere o di mercurio insomma marte congiunge urano nuovamente per la prima volta dopo circa 85 5 anni l'ultima volta che marte urano si erano incontrati nel cielo in una perfetta congiunzione era l'aprile le prime erano le prime correvano le prime due settimane dell'aprile del 1936 all'epoca il cielo però era molto più armonico rispetto ad oggi perché sa tu saturno e nettuno era noi diciamo in una posizione in un'angolazione favorevole a quel quella congiunzione marte urano e quindi permisero come dire la distribuzione dell'energia di una concentrazione diciamo di un transito che effettivamente se compresso insomma se costretto da da un cielo disarmonico potrebbe insomma detonare nel senso che è veramente una concentrazione di energia molto molto particolare quella che riceveremo da tra da questo transito in questo gennaio 2021 ecco rispetto ad allora saturno e giove sono una posizione un po più dissonante perché la congiunzione marte urano forma una quadratura tra con saturno con saturno giove dall'acquario quindi ci sono le giornate dell'8 del 9 gennaio che sono particolarmente tese quello che potrebbe accadere è un crash del sistema economico è un è un diciamo una una reazione magari della popolazione nei confronti delle delle istituzioni insomma una congiunzione marte urano per questioni economiche per questioni concrete per questioni di materialismo potrebbe portare anche a delle reazioni molto forti molto forti nei confronti delle istituzioni in questo caso rappresentate da giove e da saturno io spero anche che che non ci siano attentati insomma in giro per il mondo perché insomma sembra che ci sia una una forma un'energia di ribellione nei confronti delle delle istituzioni sono andata a guardare quello che era accaduto nell'aprile del 1936 però ripeto il cielo era particolarmente armonico e quindi non accadde nulla di particolare se non una cosa simpatica tra virgolette molto da film e cioè il primo tentativo di evasione da alcatraz tra l'altro diciamo parzialmente riuscito perché il detenuto fu raggiunto da insomma dai proiettili una volta che però era riuscito ad uscire dal carcere e quindi poi non guadagnò la libertà ma cadde sotto i proiettili però aveva reso possibile aveva dimostrato al mondo che alcatraz non era inespugnabile e che comunque una persona da sole non un clan di bandite di delinquenti in un'associazione a delinquere una persona sola era riuscita a fuggire da alcatraz quindi ci sta diciamo che nella lettura fra le possibili eventualità fra le possibili fra i possibili eventi che una congiunzione urano marte può portare c'è per esempio l'evasione perché perché già urano in toro indica che in questi anni fino al 2024 2025 avremo il crash test di tutto ciò che è rappresentato dal segno del toro lo stile di vita sicuramente verrà modificato questo sta già avvenendo causa pandemia ma comunque sta avvenendo l'economia il sistema economico viene ripetutamente messo sotto pressione per vedere se è ancora adeguato urano non non distrugge nulla che non abbia motivo insomma di di passare nel passato urano è un pianeta fortemente riformatore un pianeta fortemente innovativo e che compie il giro dello zodiaco in 84 85 anni resta una media di 5 6 anni 6 anni circa in un segno zodiacale e progressivamente ne crascia ne mette mette sotto pressione le simbologie diciamo di quel segno proprio perché alla fine del giro completo quindi dopo questi circa 85 87 anni potremmo dire che tutti gli aspetti della della vita dell'essere umano della vita terrestre sono stati rinnovati quindi dove passa urano allo scopo di riformare allo scopo di portare innovazione viene messo in discussione tutto quello che trova e quello che non regge anche le vecchie convinzioni un tradizionalismo troppo troppo rigido tutto quello che è troppo rigido troppo vecchio viene insomma viene fatto crollare miseramente laddove quella cosa non abbia più motivo di esistere e dove non abbia insomma più una funzione una funzione evolutiva perché insomma lo scopo è proprio quello di rinnovare la società urano in toro mette in discussione l'economia lo stile di vita il benessere tutto quello che è forte tradizione con tutto quello che è statico che è rigido fisso inamovibile e comunque anche il materialismo generale e la materia tutto quello che è anche anche materia proprio alcatrazia era una prigione c'era proprio fatta di di materia una roccaforte fissa rigida ritenuta inespugnabile e invece insomma potremmo avere tante di queste sorprese nel 2021 abbiamo diciamo la buona sorte tra virgolette di avere un cielo un po dissonante e quindi sembra che i cambiamenti che porta la congiunzione marte urano marte non è altro che un energia ulteriore messa a disposizione di urano in toro per crashare tutte queste cose che ho appena detto e quindi visto che ci sono anche delle dissonanze mesi di gennaio e febbraio saranno particolarmente come dire riformatori un po instabili potrebbero esserci delle ribellioni ribellioni verso quello che non va più delle istituzioni della società insomma momento molto momento caldo momento caldo e abbastanza è abbastanza movimentato ripeto ci sono le giornate dell'8 del 9 gennaio con la luna in scorpione particolarmente tese le giornate del 14 del 15 con la luna in acquario che si congiungeranno insomma i pianeti in in acquario giove saturno che potrebbero inasprire questa diatriba cioè questa rivoluzione questa energia rivoluzionaria contro le le istituzioni insomma vedremo vedremo che cosa che cosa accade insomma ci ci mettiamo come spettatori insomma e speriamo che che gli animi non vengano eccessivamente fomentati insomma e speriamo che la situazione rimanga tutto sommato tranquilla ecco quello che conta è la gestione delle la gestione positiva e consapevole delle reazioni magari più esacerbate più più distruttive ecco insomma mettiamola mettiamola così e quindi vediamo che cosa ci riservano questi transiti questo cielo particolarissimo particolarmente intenso dal 7 al 20 gennaio e procediamo segno per segno dopo la sigla il segno della riete e tutte le persone che hanno un ascendente ariete vivono questa diciamo questa dissonanza questa congiunzione marte urano nel secondo settore che cosa significa questo è il settore della capacità di essere indipendente di provvedere a se stessi quindi ci sono degli ariete che hanno stanno cercando un nuovo stipendio ci sono degli arieti che nei mesi scorsi hanno interrotto una situazione lavorativa il 2020 è stato catartico per la riete dal punto di vista degli obiettivi e della professione e quindi ci sono degli arieti che sono alla ricerca di un di una nuova fonte di di reddito di introito di sostentamento ci sono degli arieti che stanno rinunciando anche volontariamente a qualcosa qualcosa che che li sostentava a qualcosa che che li sostentava sia dal punto di vista economico che dal punto di vista materiale che dal punto di vista affettivo insomma ci sono degli arieti che hanno capito nell'ultimo anno che c'era bisogno di di indipendenza che c'era bisogno di cambiare è da tanto che stavano pensando magari di rinunciare a questa cosa questa cosa questa situazione che li ha nutriti che li ha sostentati che li ha rifocillati che li ha riempiti inondati di energia e sembra che dopo un anno e mezzo forse due di pensieri di riflessioni sia arrivato il momento di darci un taglio quindi quello che stanno facendo gli arieti e gli ascendenti ariete è quello di essere total nuovamente indipendenti di trovare nuove forme come dire di approvvigionamento un nuovo modo di badare a se stessi di non dipendere anche emotivamente molti arieti sanno tali molti ariete ed ascendente ariete stanno tagliando delle delle situazioni tossiche dei rapporti tossici delle fonti di sostentamento e anche di benessere che però non li non li soddisfacevano al al cento per cento quindi sia relazioni rapporti ma anche situazioni lavorative quindi ci stanno rinunciando o volontariamente o per tutti quegli ariete ed ascendente ariete particolarmente pigri che anche se hanno compreso che non sono nel posto giusto insomma per tutti coloro che stanno ancora indugiando potrebbero subire un taglio un taglio di sostentamento di una fonte di anche di un di una di una situazione anche affettiva di un rapporto che li nutriva anche emotivamente energeticamente però del quale probabilmente non hanno più bisogno dal punto di vista della crescita e dell'evoluzione ne hanno avuto abbastanza e però insomma chi non è che induggia chi non riesce ad uscire dalla sua zona di comfort probabilmente subirà un taglio un'interruzione una cessazione insomma di determinate situazioni questa cessazione avverrà in maniera abbastanza repentina perché marte insomma marte congiunto a durano è proprio un'accelerazione del karma quindi cari ariete preparatevi come dire insomma non fatevi trovare impreparati cari ariete ed ascendente ariete non fatevi trovare impreparati voi siete molto molto bravi a reagire non siete certo persone che hanno paura della novità del cambiamento spesso gli vanno incontro quindi insomma sappiate che per voi andare incontro al cambiamento sarà una molto più facile che per altri segni innanzitutto perché siete dei combattenti nati e soprattutto sarà molto più facile cambiare rispetto a quello che vuoi che voi potete pensare 2021 anche il 2022 ma principalmente il 2021 è un anno di che vi facilita molto le cose rispetto agli anni passati certo c'è chi è ancora un po traumatizzato insomma da dalle asperità dall'austerità dai tagli che ha subito professionalmente parlando soprattutto però abbiate fede perché il cielo con voi sarà molto molto generoso e le situazioni vi verranno incontro il cambiamento vi verrà incontro proprio nella maniera in cui lo desiderate ci tengo a dirvi che i primi due mesi del 2021 sono come dire un appendice del 2020 nel senso che state semplicemente si deve definire si deve terminare di definire tutta una serie di cose di cambiamenti compresi nel 2020 e che non era stato ancora possibile attuare o per il lockdown per le per le festività che insomma stanno stanno terminando adesso o per altre situazioni comunque gennaio e febbraio serviranno a definire a concludere definitivamente quelle situazioni che che si trascinano dal 2020 poi dal 4 marzo ci sarà veramente si può si potrà dire per voi che il 2021 avrà realmente inizio quindi qualche strappo qualche lacerazione in queste settimane nuove fondi stipendi nuovi la ricerca di un nuovo lavoro anche nuovi rapporti nuova linfa vitale insomma tutto quello che si perde in queste settimane probabilmente vi aveva già sfamato insomma aveva già fatto il suo corso quindi insomma animo ricordatevi che siete dei dei combattenti i progetti lavorativi sono ancora in divenire però avete insomma già definito avete già degli obiettivi e molto gran parte degli ascendente ariete degli arieti hanno già individuato quello che andranno a fare insomma la trasformazione che la loro che loro obiettivi hanno avuto già avvenuta anche perché chi non aveva il quadro completo fino alle settimane scorse grazie all'arrivo di mercurio in capricorno che insomma è andato a terminare a consapevolizzare a comunicare anche le decisioni prese grazie a saturno e a giove che hanno lasciato il segno insomma poco prima di natale quindi anche nelle ultime settimane c'è stato un ulteriore messa a fuoco e un'ulteriore definizione dei vostri obiettivi e si sta anche definendo l'entourage il team con il quale portare avanti questi obiettivi che nel 2021 per gli ariete ed ascendente ariete si allarga cambia si ridefinisce forse si restringe ma credo che che si allarghi insomma che cambia gli assetti ma che sarà comunque molto molto importante con il team le amicizie nel 2021 faranno da corollario alla rete alla rete all'ascendente ariete per tutta una serie di nuovi progetti che andrete a fare insomma si può dire sicuramente che non sarà l'anno in cui sarete soli le austerità del 2019 ma soprattutto del 2020 insomma si possono dire concluse vi ricordo quindi gennaio e febbraio come ulteriore come dire ciliegina sulla torta di tutto quello che che dovete fare che dovete semplicemente definire perché i cambiamenti ci sono già stati quindi io vi faccio un grande in bocca al lupo e mantenete la calma mantenete la calma laddove quelli strappi e quelle cose che vi vengono magari tolte vi lasciano vi disarmano un attimo sappiate che il cambiamento vi viene incontro e che quindi ci sarà da attendere molto poco di forza e coraggio e passiamo al segno del toro che si vede protagonista protagonista assoluto di questa soprattutto i nati in aprile e nei primissimi giorni di maggio si vedono protagonisti assoluti di questa congiunzione sole urano che gli capita proprio sulla sulla testa insomma tra tra capo e collo allora il toro ripeto soprattutto i nati da tra aprile insomma la prima decada e i primi giorni di maggio stanno si stanno adattando a delle novità che si sono già presentate nel 2020 quindi stanno hanno dovuto lavorare molto sulla flessibilità hanno dovuto portare pazienza hanno dovuto sopportare delle cose che magari non erano avrebbero preferito semplicemente non sopportare però se questo è il cambiamento se questo è il futuro voi sapete insomma che i toro hanno le spalle larghe e quindi volenti o nolenti riescono sempre ad andare incontro al come dire al loro destino con con forza determinazione insomma è anche a testa alta perché il toro è molto orgoglioso quindi non si fa non si fa mandare a gambe all'aria ora però quindi comunque c'è però una certa insofferenza perché urano sul sul sole da un paio d'anni rende questi toro vogliosi di cambiamento desiderosi di girare di uscire di cambiare un po lo stile di vita di dedicarsi anche ai divertimenti insomma è sempre un sole venusiano e hanno dovuto rinunciare anche a tutte queste cose adesso c'è una grande voglia di ripartenza marte sul sole e su urano potrebbe portare anche dei colpi di testa perché perché potrebbe rendere i toro ripeto soprattutto prima e seconda decade molto insofferenti non sopportano più le restrizioni i cambiamenti che hanno dovuto subire queste novità che stanno sopportando da un annetto e potrebbero avere dei momenti di grande impazienza e insomma si sa che il toro quando vede rosso quando si arrabbia potrebbe perdere il controllo ecco quelli sono forse dell'ira l'ira funesta o comunque la carica quando non ce la fa più quando perde la pazienza ecco questo è quello che potrebbe accadere toro quando perde la pazienza potrebbe avere un blackout di alcuni giorni alcune giornate particolari e vederci rosso è il consiglio è sempre di coltivare un sano self control un sano distacco dalle dalle emozioni più distruttive più come dire da più forti più bassi anche più aggressive perché data la quadratura di giove saturno si potrebbe insomma si potrebbe avere un nulla di fatto quindi non tutta questa grinta tutta questa energia se non gestita bene potrebbe andare a portarvi a cozzare anche contro quelle che sono le istituzioni quindi tutte le persone che sono chiuse zona rossa lockdown cose del genere io vi consiglio in queste giornate soprattutto l'otto e il 9 e 14 e 15 di mantenere la calma osservate le regole anche se non ne potete più siate molto liggi al dovere non siate trasgressivi non siate rivoluzionari non siate reazionari cercate di rimanere nei ranghi questa il toro è sempre così sempre così a posto insomma sempre così di buon senso no sempre così tendenzialmente rispettoso della tradizione delle leggi già con urano insomma avrebbe voglia di fare una piccola rivoluzione personale e insomma in queste settimane potrebbe essere particolarmente ribelle quindi il consiglio è di non infrangere le leggi perché insomma potrebbe arrivare qualche piccola o media conseguenza questo è il consiglio più più sincero che posso darvi cercate di respirare profondamente insomma sappiate che deve passare questa nottata deve passare e ponderate quello che che fate ovviamente questa questa previsione vale sia per i toro di prima e seconda decade ma anche per gli ascendenti perché perché l'ascendente che ha delle reazioni tutto quello che capita sull'ascendente quindi la condizione urano marte su un ascendente toro vorrei potrebbe renderli più impulsivi rispetto ad un sole addirittura o illuminare anche una luna perché perché tutto quello che in tutta l'energia tutte le informazioni energetiche che noi abbiamo all'ascendente solitamente rappresentano la parte più superficiale anche quella più istintiva della personalità che spesso sfugge al controllo del soggetto quindi un toro voi vedrete sicuramente degli ascendente toro molto paciosi molto tranquilli solitamente molto tranquillizzanti sia che l'ascendente toro ha un effetto placebo su tutti insomma riesce a tranquillizzare anche quando si arrabbiano non convince apparentemente non non spaventa l'ascendente toro è molto molto calmo molto solido molto buonario fa sempre un effetto un po' da pace o con è proprio un effetto tranquillizzante questo questa volta potreste non riconoscerli perché la congiunzione marte insomma marturano all'ascendente potrebbe renderli particolarmente nervosi e reazionari incontrollabili coltivate muovetevi scaricate scaricate col movimento insomma coltivate distacco zen e respiri profondi e osservate le regole in queste due settimane voi vedrete che insomma presto le cose si si rimetteranno si rimetteranno per il verso giusto giove soprattutto giove si sta allontanando velocemente da soprattutto dei nati in aprile che saranno i primi a tirare un sospiro di sollievo già verso fine mese anche i toro e l'ascendente toro nonostante questo tutta questa energia compressa no che non riesce ad essere sfogata tutta questa voglia di cambiamento e di ribellione hanno delle giornate molto positive che sono il 12 e il 13 con la 12 13 gennaio con la luna in capricorno che segnerà un ulteriore avanzamento delle una grande crescita personale come toro stanno compiendo in questo periodo crescita personale avanzamento di nozioni per i toro e ascendente toro studenti di qualsiasi di scuola di qualsiasi ordine e grado quelle possono essere delle giornate molto positive per per le verifiche e chi deve compiere un viaggio chi riuscirà quei toro quegli ascendente toro che vogliono muoversi e che vogliono andare lontano non insomma nonostante la pandemia avranno modo e motivo di farlo nelle giornate per esempio del 12 e del 13 veramente molto positive nel 16 e del 17 giornate molto molto positive che riusciranno a far sfogare in maniera ordinata e positiva per il toro tutta questa energia che stanno accumulando ormai da tanto tempo e che potrebbero avere difficoltà a gestire la grande energia che i toro gli ascendente toro stanno sentendo dipende anche dai grandi cambiamenti che vogliono apportare ai loro obiettivi alle loro professioni hanno maturato delle consapevolezze molti toro stanno diventando più tecnologici più digitali stanno vogliono voglia di cambiare di apportare delle novità alle loro professioni ai loro obiettivi e hanno una grandissima voglia di muoversi cosa che probabilmente insomma per i dpcm non potranno fare forse quella quel nervosismo dipende anche da quello quelli che i toro che invece riusciranno a farlo per esempio nelle giornate del 12 del 13 del 16 del 17 riusciranno a muoversi proprio per mettere dei delle pietre miliari per quello che è il loro percorso di miglioramento e di insomma avanzamento nella nella carriera nella nell'attività sa che il toro ambisce oltre oltre che al benessere economico ambisce anche proprio al benessere a stare bene a stare nel comfort ad accrescere ad accrescere il suo benessere il suo a migliorare il suo il suo stile di vita e perché quelle giornate potrebbero segnare delle pietre miliare del dei miglioramenti e degli avanzamenti per per gli obiettivi del toro anche in quel senso quindi giornate di di grandi miglioramenti eh grandi progetti che eh i toro gli ascendente toro insomma stanno meditando e vogliono attuare da tempo date tempo al tempo insomma il cambiamento inizia per voi da da questo mese quindi forza e coraggio e fatemi sapere nei commenti perché sarà un transito veramente intenso che i toro probabilmente gran parte dei toro che sono in vita non avevano ancora vissuto quindi insomma datemi eh datemi un feedback e passiamo al segno dei gemelli che percepisce un gran percepirà queste due settimane quindi dal 67 fino al 20 gennaio percepirà più che altro un un'insofferenza psicologica tutti quei gemelli che solitamente tendono a buttare nell'inconscio tutto quello che non li soddisfa senza starci a guardare perché si sa che i gemelli ama la leggerezza ma il divertimento ama scherzare ama le cose veloci non ama approfondire non ama stare molto sulle cose si sa che i gemelli non insomma non brillano per per introspezione per introversione il gemelli parla 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 ma magari cerca anche di parlare di distrarsi anche da da quello che prova sembra che questa congiunzione marte urano che si materializza nel vostro dodicesimo settore questa è una previsione che vale sia per i gemelli che per l'ascendente gemelli porti a galla molto nervosismo ma se non insomma se vi siete buttati alle spalle troppe cose che non che dovevate elaborare insomma se avete l'inconscio insomma pieno di cose che non avete voluto guardare potrebbero venire fuori tutta una serie di di malesseri malesseri dell'anima ragazzi ma l'essere dello spirito perché insomma la dodicesima casa è la casa delle cose spirituali poco palleggiata dal da gemelli e dall'ascendente gemelli che ama invece la vita pubblica e la comunicazione quindi potrà avvenire fuori un malessere una sofferenza dell'anima potrebbero non sopportare più delle situazioni che li costringevano da tempo che non reggono da tempo e adesso potremmo vedere insomma delle degli scoppi di ira delle ribellioni dei no potrebbe venire fuori qualcosa che non sopportano più e nei casi in cui il gemelli non ha era stato molto così recluso nel silenzio non l'aveva comunicato potrebbe rivelarsi una grande sorpresa anche per chi per chi si trova a ricevere questi no però questi due mesi fanno parte di un grande cambiamento di una grande liberazione di un grande processo trasformativo che gemelli hanno già attuato da alcuni mesi a questa parte diciamo dagli ultimi mesi del 2020 e probabilmente siamo arrivati allo zoccolo duro cioè ad una trasformazione a ad una ribellione necessaria che probabilmente stanno rimandando da molto tempo ma che iniziata almeno due anni fa quindi momento introspettivo ma anche di grande ribellione per i gemelli per gli ascendenti gemelli che potrebbero finalmente in questo gennaio e febbraio 2021 approfittare per non poterne più e per dire basta a cose che insomma li disturbavano particolarmente vi ripeto il cambiamento sarà agevolato dopo la liberazione di tutta una serie di zavorre di cose anche del passato che vi stavano vi stavano sullo stomaco quindi quello che all'inizio insomma sembra qualcosa di irrazionale uno scoppio una lite un momento di nervosismo banale in realtà è l'inizio di un grandissimo cambiamento di un grandissimo miglioramento che i gemelli e gli ascendenti gemelli dei primissimi gradi quindi prima decade da 0 a 10 gradi anche quindi nati in maggio e i primissimi giorni di giugno inizieranno a iniziano stanno già vedendo insomma saranno aiutati da qualcosa o da qualcuno insomma dopo dopo questa liberazione dopo essersi liberati da tutta una serie di zavorre dell'inconscio saranno aiutati dalle stelle e poi insomma materialmente anche da qualcuno da qualcosa che gli aiuterà a procedere quindi insomma a apportare tutti quei cambiamenti che che una determinata liberazione da qualcosa ora finalmente rende possibili insomma la novità in questi due mesi questi due mesi anche per i gemelli saranno di completamento insomma di un percorso che iniziato nel 2020 un percorso che è più introspettivo più psicologico più legato alle consapevolezze però poi i miglioramenti si vedranno all'esterno in maniera molto tangibile insomma è molto molto visibile fin da subito i primi di marzo ci sarà proprio l'apoteosi i primi due mesi come stavo dicendo anche per la rete come dicevo all'inizio del video sono proprio di completamento del 2020 sono di elaborazione e di liberazione di ulteriori zavorre di cui avete preso consapevolezza nei mesi precedenti e poi insomma anche per voi il 2021 inizia alla grandissima dai primi di marzo non fatevi sapere nei commenti perché un cielo molto molto intenso dimenticavo di dirvi che le giornate si e le giornate no di gemelli ed ascendente gemelli saranno sì il 14 e 15 e invece no il 10 e l'11 gennaio quindi muovetevi di di conseguenza e passiamo al segno del cancro che invece beneficia di di questa di questa congiunzione marte marte urano in toro soprattutto i nati in in giugno nei primissimi giorni di luglio riceveranno una grandissima energia un grandissimo sprint da questa congiunzione che avverrà a partire dal 67 dal 67 gennaio quindi insomma gennaio sarà un ulteriore pietra miliare nell'avanzamento e nella ripresa dopo i down degli ultimi due anni perché insomma io non dimentico cosa il cancro gli ascendente cancro hanno insomma hanno dovuto elaborare e affrontare negli ultimi due anni soprattutto soprattutto i cancro più che l'ascendente cancro mi è sembrato di mi è sembrato di di vedere di ho avuto modo di osservare ma se non è così ditemelo nei commenti questa i miglioramenti che i cancro inizialmente di prima e seconda decade poi in febbraio anche di terza riceveranno comunque da da questo transito allora innanzitutto la congiunzione marte urano riguarderà prima e seconda decade perché poi quando in febbraio marte passerà all'ambire gli ultimi gradi del segno urano sarà ancora verrà lasciato indietro quindi non ce la farà quindi il cambiamento più tangibile riguarda le prime due decadi quindi nati in giugno e nella prima settimana primi dieci giorni di luglio il settore che sembra beneficiarne oltre proprio all'energia e alle opportunità che arriveranno ai cancro e all'ascendente cancro sembra essere il settore tanto per cominciare delle relazioni però delle relazioni ufficiali quindi parliamo di matrimoni insomma di legalizzazione di rapporti e quindi anche però di tutti quelli che sono i contratti e le società se state aspettando l'esito di una diatriba verbale una sentenza è molto probabile si arriverà in queste in queste settimane che sia palesemente a vostro favore quindi insomma si potrebbe concludere una situazione del genere questo soprattutto per l'ascendente cancro potreste ricevere delle delle proposte di nuovi contratti ovviamente un miglioramento per voi contro il tempo indeterminato per chi li aspetta proposte di matrimonio nuove società insomma è un periodo veramente veramente fiorente marte via ha sollecitato il vostro settore del lavoro e della salute negli ultimi mesi in una maniera insomma non si definiscono i transiti indegno ma insomma per quanto i cancro amano la tranquillità la zona di comfort le coccole insomma siete stati sfidati notevolmente anche da quel punto di vista non soltanto dal punto di vista delle relazioni ma anche per la salute e per il lavoro quindi ottime le relazioni e molto interessante anche diciamo il colpo di fulmine le ci sono le giornate dell'otto e del 9 gennaio fatemelo sapere nei commenti che per i cancro ascendente cancro sono molto appassionate insomma molto interessanti molto intriganti anche per fare nuove conoscenze o per avere come dire insomma incontri appassionati e fugaci il settore però da cui parte tutto il diciamo il grande cambiamento quindi il settore nel quale avviene la congiunzione marte urano è l'undicesimo settore l'undicesimo settore l'undicesimo è il settore del team quindi di tutte le persone con cui magari lavorate se lavorate in team quindi anche dei colleghi delle classi qui mi riferisco agli studenti del cancro dell'ascendente cancro è il settore dei nuovi progetti e delle speranze e anche delle amicizie potrebbero esserci dei colpi di scena che andranno a vostro favore e che quindi porteranno tutto l'effetto domino dei miglioramenti nel settore delle relazioni in primis e anche insomma della crescita della coscienza e proprio a voi come personaggi e come come individui anche quindi in termini di forza fisica di energie e di benessere quindi è tutto parte dal dal settore dell'undicesimo settore urano nell'undicesimo settore sta già rivoluzionando probabilmente il settore dell'entourage del team delle amicizie però urano è sempre in toro quindi è a casa sua ma in un segno che non tanto lo lo rende libero lo rende libero di agire quindi ci sono probabilmente degli interessi materiali delle diatribe materiali che potrebbero scombinare team le classi delle comodità o qualcosa di scomodo che arriva e che quindi insomma un po divide questo è non sono riuscita ad immaginare quali e quante eventualità possibili possa portare un undicesima casa un governatore in un segno non adeguato unito a marte infatti spero che molti cancro e molti ascendente cancro mi diano feedback e mi scrivano nei commenti quello che che può essere accaduto che accadrà riguardo al insomma al team le amicizie anche a delle nuove delle nuove speranze a insomma a dei nuovi progetti a cui potrebbero iniziare a lavorare improvvisamente ed immediatamente e quindi forse è da lì che si si muovono positivamente per voi nuove associazioni nuove nuovi rapporti nuovi contratti insomma potrebbe anche esserci un nuovo contratto di lavoro per andare a lavorare in un team che che vi piace molto perché comunque il cambiamento anche se repentino anche se improvviso anche se può scombinare qualcosa questa volta è tutto a vostro vantaggio insomma datemi datemi notizia e un grosso insomma in bocca al lupo guardatevi queste due settimane di gennaio perché vi ripagheranno insomma di tante cose a cui avete dovuto rinunciare nei mesi nei mesi precedenti e passiamo al segno del leone che invece riceve una una congiunzione marte urano dopo 85 dopo 85 anni circa nel settore carriera nel settore aspirazioni è probabile che soprattutto per i leoni per l'ascendente leone per leoni di luglio per l'ascendente leone ai primi gradi del segno ci sia un piccolo terremoto per quanto riguarda gli obiettivi le ambizioni quindi un cambiamento una un improvviso cambiamento di dirotta di intenzioni di una è come se foste folgorati insomma sulla via di damasco arriva qualcosa o qualcuno che vi dice una parola e vi spalanca un mondo e vi fa comprendere qualcosa qui non avevate pensato quindi una voglia di cambiare di distruggere tutto quello per cui avete magari lavorato negli ultimi negli ultimi tempi negli ultimi mesi o da due anni in qua chi può dirlo e iniziare un un percorso che vi porterà ad una rivoluzione personale molto probabilmente di tutti quelli che sono insomma i rapporti il concetto anche di rapporti ufficiali perché questa congiunzione marte urano nel decimo settore quadra con saturno giove nella vostra settima casa che sono le relazioni e i contratti quindi c'è anche chi potrebbe licenziarsi c'è anche chi potrebbe improvvisamente decidere di voler fare altro c'è anche chi potrebbe chiedere un trasferimento e c'è anche che potrebbe ottenere con molta facilità e c'è anche chi potrebbe rivoluzionare completamente le proprie insomma le proprie direzioni i propri obiettivi di vita questo per tutte le persone che hanno l'ascendente leone primi gradi valori leone primi gradi un segno solare quindi ai leoni di luglio dei primissimi giorni di di agosto potrebbe essere veramente un periodo molto intenso però benefico e rivoluzionario io io vi chiedo di essere particolarmente accorti nelle giornate del 14 e 15 perché con la luna in acquario le forze veramente potrebbero essere contrastanti e insomma acuire le dissonanze che ci sono già nel cielo quindi insomma coltivato un self control osservate e però poi comunicate le decisioni che vorrete vorrete dare un po più in là probabilmente non nei giorni nevralgici insomma particolarmente sensibili di queste tensioni anche perché i cambiamenti che volete apportare insomma non sono probabilmente non sono cosa da poco e visto che potrebbero essere dettati da così da un fulmino al ciel sereno da qualcuno insomma che vi fa riflettere insomma forse ci vorrebbe anche del tempo per metabolizzarli un po molto positive comunque le giornate del 10 e dell'11 e del 18 del 19 con le lune rispettivamente in sagittario in ariete quindi comunque avrete vi tornerà quella forza quel motore motivo che non vi fa fermare davanti a niente che vi fa essere dei combattenti dei guerrieri e che nonostante i grandi cambiamenti e un normalissimo disorientamento vi farà riprendere in mano saranno giornate che vi permetteranno di riprendere in mano le le situazioni quindi vabbè poi si sa che il leone è una grande fiducia in se stesso anche l'ascendente leone si abbatte per molto per molto poco tempo ha una grande capacità di ripresa e insomma ha sempre l'occhio lungo per vedere il domani quindi forza e coraggio comunque i cambiamenti sembrano è lavorativamente lavorativi e relativi agli obiettivi insomma alla vostra realizzazione professionale vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e vi aspetto nei commenti siete fra i segni più più intercettati nelle prossime due settimane dal da questo cielo di grandissimo cambiamento quindi io vi aspetto e passiamo al segno della vergine che invece in una maniera un po simile al cancro al cancro di prima e seconda decade viene investito in maniera molto molto positiva da questi da questa congiunzione quindi tutte quelle vergini che sono lì ad indugiare che non sapevano cosa fare che hanno passato le vacanze di natale insomma molto dediti alla casa hanno vissuto la casa sono dedicati all'ambiente domestico e familiari insomma alle proprie quattro mura adesso verranno colti anche loro folgorati insomma sulla via di damasco da qualcosa di molto positivo da una notizia che arriva e li fa anche muovere immediatamente quindi un grande un grandissimo cambio un grandissimo ed improvviso cambiamento che porta una grande crescita e una grande positività le giornate giornate per esempio del 12 e del 13 sono ma anche dell'otto e del 9 sono estremamente positive e anche fruttuose i cambiamenti allora la quello che arriva è un'opportunità di crescita è un'opportunità di consapevolezza è un'opportunità anche di aumento delle competenze quindi qui può essere un viaggio può essere che veniate chiamati da spostarvi lontano può essere che vi arrivi l'offerta di un corso di una specializzazione molto interessante o che cominciate un percorso di crescita personale qualsiasi cosa accada arriverà all'improvviso magari pensavate di fare questa cosa da molto tempo insomma più riprese anche nel 2020 avete avuto idea di di farvi compiere determinate azioni però adesso è arrivato il momento e arriva così all'improvviso forse insomma quando vi stavate ancora godendo gli ultimi giorni di di vacanze insomma gli ultimi spiccioli gli ultimi giorni di di feste e quindi insomma arriva questo grandissimo cambiamento parlo soprattutto per i nati di agosto e per i nati nei insomma nei primi dieci giorni massimo di di settembre quindi arriva questo avanzamento questa nuova consapevolezza questa chiamata da lontano questa qualcosa che vi porta molto lontano rispetto a prima o in termini geografici o in termini proprio di di coscienza di di cultura e riguarda assolutamente il lavoro è probabile riguarda assolutamente diciamo il lavoro che stavate già svolgendo ed è probabile che vergine ascendente vergine siate insomma tentati di lasciare quello che stavate facendo per dare una svolta potrebbe anche accadere che un lavoro termina vi viene comunicato improvvisamente insomma che il lavoro che stavate svolgendo è giunto al termine una situazione lavorativa è giunta al termine e quindi potrebbe venirvi improvvisamente in vostro potrebbe arrivare in vostro aiuto o una chiamata da lontano o potreste veramente fare le valigie e partire quindi o c'è chi si iscriverà un nuovo corso che farà una nuova una scuola di specializzazione chi aumenterà le proprie competenze e chi invece probabilmente insomma se ne andrà andrà lontano questo questo è molto è un cielo molto molto intenso quindi nelle giornate del 12 e del 13 per esempio potrebbe potresti avere chiari anche gli obiettivi perché le cose accadranno molto molto velocemente io vi prego di darci feedback darmi feedback a me tutte le persone appassionate di astrologia che commentano i miei canali questo video comunque i social instagram e facebook perché per voi insomma ci sono dei dei cambiamenti notevoli lavorativi e io vorrei sapere quanti riescono a rimanere nel lavoro che stavano già svolgendo quindi nelle situazioni lavorative che che stavano già già svolgendo alcuni potrebbero avere sia una chiamata sia continuare a lavorare nella diciamo nella vecchia sedia nella vecchia situazione e a cercare di come dire di fare salti mortali per conciliare le due cose di sicuro il 2021 per quanto riguarda il insomma il lavoro lavoro subordinato fondamentalmente quindi non stiamo parlando di di grandissimi progetti proprio di trovare lavoro di essere assunto al lavoro di fare delle assunzioni cosa che molto diciamo in linea con un ascendente vergine con un solo in vergine è un anno molto importante potreste trovare adeguandovi ai vari cambiamenti che le situazioni vi chiedono potreste trovare un lavoro a tempo indeterminato adesso potreste cominciare poi insomma i primi contratti molto interessanti potrebbero arrivare in primavera tra aprile e maggio insomma giugno però poi insomma seguiamo la pratica l'importante che adesso vediamo che cosa porta questa questa fantastica unica insomma nuova mai sperimentata prima congiunzione marte urano aspetto anche voi nei commenti una giornata in cui vi volevo consigliarvi di ponderare firme di stare attenti di non dare comunicazioni frettolose di non affrancarvi da qualche relazione o situazione insomma ufficiale e contrattuale sono le giornate del 16 e del 17 di gennaio giornate tutto sommato positive ma che potrebbero registrare delle piccole defiance una cosa che volevo suggerire tutte le persone che hanno l'ascendente verde non sono della vergine vista la presenza di giove saturno nella sesta casa magari di fare un check up comunque di regolare lo stile di vita di essere molto rigorosi proprio perché la salute dipende spesso dallo stile di vita che una persona tiene e con giove saturno nella sesta casa sicuramente il 2021 potrebbe essere un anno insomma di di nodi al pettine nel caso di un stile di vita dissoluto comunque disordinato e insomma c'è una chiamata a rigore anche in questo per quanto riguarda cose semplici non non vi spaventate alimentazione regolarità negli orari insomma attività comunque c'è un occhio da buttare in questo 2021 a prescindere dalle congiunzioni urano marte che poco c'entrano alla salute quindi proprio regolarizzate il vostro stile di vita insomma prendetevi cura di voi anche se insomma con una sesta casa in in acquario non sempre insomma vivete un po alla giornata non non sempre facile però volere è potere quindi siate ligi passiamo al segno della bilancia che riceve questa congiunzione nell'ottavo settore ragazzi l'ottavo settore è un settore dalle simbologie più disparate potreste finalmente ricevere quelle eredità che stavate aspettando potreste fare un incontro diciamo molto interessante avere un colpo di fulmine che vi spalancherà le porte di una relazione basata su una grande attrazione fisica potreste scoprire o mettere a posto delle cose che riguardano le vostre eredità non non soltanto ricevute ma anche le eredità morali l'eredità l'eredità anche energetiche non scoprire cose che una persona ha ereditato mettere il focus sapere delle cose sui propri antenati sui propri insomma su su quello che si ha si potrebbe avere una grande capacità di ripresa dopo invece un periodo molto molto stressante o dopo la fine di una relazione questo vale sia per la bilancia che per l'ascendente bilancia allora bilancia scendente bilancia hanno avuto hanno visto mettere a dura prova dalle stelle il settore dei contratti delle società e anche del matrimonio 2020 19 ma 2020 in particolare è stato si è rivelato particolarmente sfidante e parlo principalmente per l'ascendente bilancia ci sono delle unioni ci sono anche delle unioni matrimoniali ma anche delle società e dei rapporti contrattuali che non hanno visto la luce del 2021 che non ce l'hanno fatta che sono arrivati proprio al termine una conclusione perché saturno ha sancito proprio la la fine la fine di di queste situazioni proprio a stabilito che non era più tempo di continuare ora a seguito di diciamo quindi di questa fine una congiunzione così improvvisa una bomba energetica nell'ottavo settore potrebbe far portare delle novità dal punto di vista diciamo relazionare ma insomma siamo qui nell'ambito della passione del trasgressivo dell'eros quindi una persona ormai libera potrebbe essere folgorata ma in questo caso non tanto sulla via di damasco ma insomma su sulle strade del diciamo del piacere della trasmissione dell'abbandonarsi cominciare a fare cose che non avevano mai fatto sia che la bilancia è un pianeta venusiano che insomma non ama abbastanza tradizionalista perché comunque è l'esaltazione di saturno e non tende a meno che non ci siano pianeti in altro insomma stellium particolare nel tema natale non tende alle trasgressioni ecco questo potrebbe essere un mese legato alle alle trasgressioni vista la quadratura di giove saturno il consiglio è di non esagerare di non eccedere e insomma di rimanere nei insomma nei ranghi del buonsenso o della legalità perché perché la quadratura di giove saturno possono portare anche delle conseguenze e delle sanzioni questo nel caso in cui uno per vedere l'amato bene dovesse trovarsi ad uscire insomma faccio un esempio in realtà si potrebbe anche per vivere un momento di grande intensità con il partner tradizionale quindi una grande attrazione una grande ritrovata intesa anche fra le mura domestiche perché comunque questa questa congiunzione marte urano in toro forma degli aspetti veramente positivi con i pianeti in capricorno sole plutone mercurio che ancora sole plutone venere che ancora sostano nella nella quarta casa delle bilance quindi o c'è la soluzione di una o c'è una ripresa della grande intesa o c'è una nuova storia che magari subito vada a lietare la vita domestica della persona intendiamola così o c'è un una soluzione una risoluzione patrimoniale ed ereditaria che migliora che consente il miglioramento e il restauro insomma l'abbellimento delle quattro mura comunque in ogni modo anche la bilancia trova il suo miglioramento in un cielo che ormai dal 21 dicembre fortunatamente si è volto si è rivoltato si è spostato tutto a favore della bilancia perché anche la bilancia come il cancro come la riete ha trascorso un 2020 particolarmente sfidante veramente particolarmente sfidante ma anche il 2019 si era fatto sentire si era fatto sentire per il suo peso insomma per per la sua importanza quindi la bilancia io parlo di bilancio ascendente bilancia in nell'immediato parlo dei nati in settembre e primi giorni d'ottobre o di tutte quelle persone che hanno valori luminari ma fondamentalmente il sole al massimo la luna nei nei primi 15 10 15 gradi del del segno della bilancia perché insomma godono del già del favore di giove saturno non vi dico in fra poco arriveranno anche mercurio più la venere insomma state andando a gonfie vele quindi insomma fatemi sapere però visto che il settore l'ottavo settore ha una serie di di valenze di simbologie molto bassi quindi dalla resilienza dalla dalla capacità di sorge dalle crisi dall'eros dall'eredità dalla morte dalla magia insomma sarei veramente curiosa di sapere come una congiunzione urano marte in toro che non è proprio comodissima per l'ottavo settore possa risolversi comunque sappiate che visti i trigoni che incontra dei pianeti in capricorno il settore domestico in qualche modo ne verrà allietato il settore familiare i componenti della famiglia ne verranno allietati insomma o comunque tutto quello che accadrà anche se dovesse essere insomma botta di vita notevole sarà alla fine per il miglioramento insomma soprattutto della vita familiare vi ricordo sempre di non trasgredire in maniera eccessiva perché c'è la quadratura di giove saturno quindi potrebbero piovere sanzioni che potrebbero anche non essere pecuniarie ma insomma consistere nel far venire alla luce la trasgressione del momento insomma quindi potrebbero esserci delle scoperte sono molto curiosa di di avere i vostri i vostri preziosissimi feedback insomma di sapere che cosa che cosa questa congiunzione queste due settimane centrali di di gennaio vi porterà quindi vi aspetto nei commenti e passiamo ad un altro segno che è particolarmente investito da questa da questa congiunzione perché è il segno dello scorpione che già subisce l'opposizione di urano dal maggio 2018 e adesso insomma vede concentrati tutti tutta l'energia che cercava di schivare da un paio di anni in qua allora l'opposizione di urano al sole dello scorpione parlo di ascendente scorpione di sole scorpione i nati in ottobre nei primi giorni di novembre l'energia che hanno avvertito negli ultimi anni è stata un'energia di grande precarietà lo scorpione non riusciva a mettere radici si sa che lo scorpione quando fa su un ambiente una situazione deve affondare le proprie radici penetrarle e è proprio dalla compenetrazione delle situazioni delle relazioni nelle quali si stabilizza che insomma acquisisce tutta una serie di informazioni di energia insomma lo scorpione ha bisogno di mettere radici urano da maggio 2018 non glielo ha concesso lo ha sempre spostato di qua di là o comunque sempre reso ha sempre offerto un terreno poco fertile affinché questo avvenisse quindi insomma molti scorpione soprattutto quelli di ottobre non sono riusciti a fare insomma a mettere in atto i propri progetti ora già dal 2020 ma adesso ancora di più arriva anche la quadratura di saturno quindi allo scorpione agli ascendente scorpione ai nati in ottobre nei primi novembre si chiede una grande elasticità nello specifico la la congiunzione marte urano si presenta nel settimo settore che è il settore del matrimonio insomma cercate di non mandare all'aria ci sono delle relazioni che sarà impossibile mantenere tutte quelle relazioni che sono proprio arrivate alla alla frutta come si suol dire insomma potrebbero vedere proprio in queste settimane un ulteriore peggioramento è un ulteriore definizione ci sono delle relazioni delle situazioni contrattuali delle relazioni dei matrimoni delle società che potrebbero veramente non riuscire a superare queste grandissime dissonanze ovviamente tutto quello che andrà a gambe all'aria è qualcosa che ha esaurito la sua funzione il suo ruolo la sua energia perché ricordiamoci che urano è un pianeta fortemente evolutivo pianeta fortemente innovativo riformatore quindi insomma ci spinge al cambiamento relazioni contratti matrimoni società potrebbero insomma essere veramente messe alla prova comunque anche rompersi nel giro di poco sembra che questa sembra che questa diciamo che il cielo di queste due settimane di centrali di gennaio porti anche delle conseguenze relative a questa diciamo a alle modifiche ai cambiamenti relazionali porti anche delle conseguenze nel settore famiglia c'è chi potrebbe comprare casa e trasferirsi repentinamente c'è chi potrebbe avere dei problemi da queste compravendite perché insomma i settori intercettati sono proprio la settima e la quarta quindi gli immobili la famiglia e le relazioni ci potrebbero essere dei dei matrimoni che che terminano e quindi anche insomma la fine di una vita di una vita familiare comunque ci sono dei grandi cambiamenti per tutti gli scorpioni ascendente scorpione perché giove saturno e al momento momento mercurio in queste settimane mercurio poi arriverà anche venere insomma ci saranno un ammasso di pianeti veloci e meno veloci nel quarto settore quindi compravendite immobiliari cambiamenti negli assetti familiari cambiamenti della casa ristrutturazione insomma matrimoni società contratti e immobili o vita familiare sono attenzionati in maniera fortissima da questi transiti quindi ascendente scorpione e scorpione dei primi 10 15 gradi quindi nati anche in ottobre e primi gradi di novembre allora ci sono delle giornate sì che comunque riescono a far stemperare tutta questa come dire tutta questa tensione tutta questa energia tutta questa tutti questi cambiamenti improvvisi e sono le giornate del 17 il 18 quindi insomma molto dolci che ammorbidiscono che che risistema insomma riarmonizzano le energie e invece le giornate no che sono le giornate del 14 del 15 quindi in quei giorni cercate magari di fare un passo indietro di non alimentare discussioni perché ci sarà una tensione nell'aria che potrebbe potrebbe dar fastidio no e potrebbe magari portare ulteriore tensione far fare dire cose che potrebbero peggiorare la situazione comunque quelle quelle del 14 e 15 potrebbero essere insomma le giornate in cui si definisce la fine di qualcosa una compravendita insomma oppure c'è l'intenzione di voler fare una compravendita che invece salterà all'ultimo minuto anche in questo caso anche con voi visti i transiti eccezionali che avete perché insomma urano e marte non si incontravano da tantissimi anni da quasi 90 anni anche per voi io vorrei i vostri feedback preziosissimi per sapere per sentire nei commenti come stanno come stanno andando le cose cercate di mantenere la calma insomma ragazzi e di salvare il il salvabile cerchiamo tutti in questo anno molto complicato dovremmo farlo sempre tutti quello di coltivare un certo self control è un certo distacco insomma da dalle paure dalle emozioni insomma più più travolgenti perché insomma alla fine le cose che accadono dipendono incidono anche a seconda dell'importanza che gli diamo e ridimensionare le cose che ci travolgono secondo me è una delle delle cose migliori che per la persona persona possa fare non ingigantirle ma insomma ridimensionarle così sono più gestibili credo che sia la cosa migliore fatemi fatemi sapere nei commenti io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questo per questo cielo che è di grande cambiamento che vi porterà comunque per forza necessariamente a dei cambiamenti però sappiate che dopo un iniziale smarrimento insomma rifiuto dei nuovi cambiamenti sappiate che andrete incontro a qualcosa di molto bello che si vedrà già da fine marzo quindi forza e coraggio e passiamo al segno del sagittario che vede questa congiunzione marte urano capitare nel sesto settore questo ovviamente ricordo sempre che è una che sono delle previsioni valide per sagittario e ascendente sagittario quindi cos'è il sesto settore è il settore della salute non fate sport estremi in quei giorni io eviterei più che altro per la quadratura di giove saturno non fate sport estremi non esagerate e mantenete la calma al lavoro perché potrebbe esserci un accadimento insomma che vi potrebbe far innervosire no quello che probabilmente accadrà per voi sarà un periodo nelle settimane centrali di gennaio di super lavoro di lavoro di attività fisica intensissima quindi o una quantità di straordinari al lavoro o un'attività sportiva magari molti sagittario sapete che sagittario sono difficili da tenere a casa quindi quello che potrebbe accadere che magari appena c'è una riapertura partano insomma alla volta di qualcosa e magari fare qualcosa di estremo che sia uno sport che sia un'esperienza insomma va bene tutto so che è difficile insomma tenervi calmi vi ricordo soltanto che questa congiunzione marte urano che insomma bella bomba bella bella intensa quadra giove saturno anche venere no anche mercurio scusate quindi non eccedete insomma fate sempre magari no un pochino di meno di quello che vorreste fare perché conferisce tantissima energia e quindi vi potrebbe spingere a fare forse un po di più rispetto alle vostre alle vostre possibilità insomma e ad avere delle piccole noie delle piccole noi perché comunque giove saturno formano un sestile col vostro sole col vostro ascendente parlo di chi è nato in novembre o chi ha l'ascendente ai primissimi gradi del sagittario insomma è una grande energia una un grande cambiamento però potrebbe esserci anche una notizia però comunque state attenti ecco insomma sì fate un passo indietro fate non portate le cose all'estremo con come a volte cercate di fare la notizia è che potrebbero arrivare anche delle notizie di spostamenti e di di trasporti trasferimenti visto che la congiunzione urano marte fulmine e ciel sereno accade nel sesto settore potrebbe arrivare la notizia di un trasferimento quindi insomma di un trasferimento lavorativo questo è un aspetto anche molto buono per i sagittario studenti perché probabilmente c'è la ripresa insomma forse vi spostate per ragioni di studio comunque porta delle grandi novità dei grandi cambiamenti anche gli studenti del sagittario avranno un buon periodo il 2021 è molto buono per raggiungere i vostri traguardi voi siete molto molto legati al processo di erudizione alla cultura al sapere alla conoscenza perché sapete che che vi porta lontano siete proprio desiderosi di di conoscere insomma il 2021 non si farà desiderare da questo punto di vista i giorni no in tutta con insomma in questo cielo complicatissimo sono per esempio le giornate del 16 del 17 gennaio con una luna in pesce emotiva nel settore famiglia che potrebbe farvi dover accudire qualcuno comunque non allontanare per tutta una serie di emozioni sensi di colpa insomma quindi sono giornate un po un po confuse prendetele per quello che sono invece dei giorni si sono il 10 e l'11 fatemi sapere nei commenti se ci sono queste notizie di trasferimento lavorativo perché insomma so che molti sagittario vorrebbero un cambiamento da questo 2021 quindi insomma io vi faccio un in bocca al lupo sagittario ascendente sagittario io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e vi aspetto nei commenti passiamo al segno del capricorno il segno del capricorno come il cancro come la vergine beneficia particolarmente insomma di di questa bomba stellare di questa congiunzione di questo grande cambiamento urano marte urano in toro perché ovviamente insomma tutti i pianeti tutti i valori in segno taurino formano vanno in soccorso vanno formano degli aspetti molto positivi con ascendente sole e tutti e tutti i valori del del capricorno quindi è un grande ripresa segna una grande ripresa per i capricorno e per tutti quelli ascendente capricorno soprattutto che probabilmente sono quelli che hanno patito di più il il transito di giove ma insomma i transiti del 2020 perché chi ha saturno all'ascendente si sa che va incontro potenzialmente a delle grandi svolte di vita svolte di vita che insomma che coinvolgono la vita dei soggetti a 360 gradi quindi insomma tutti questi cambiamenti lenti che sono iniziati nel 2020 con questa congiunzione con questa chiamiamola bomba insomma però non vorrei nell'accezione positiva potrebbero come dire far maturare portare a galla tutto questo processo di cambiamento insomma quindi queste settimane centrali di gennaio del 2021 potrebbero essere a presentare una pietra miliare nel nel vostro nel vostro percorso di cambiamento nello specifico la congiunzione marte urano si si verifica nel vostro quinto settore quindi o qui abbiamo un colpo di fulmine travolgente assolutamente travolgente o accade qualcosa di molto interessante di insomma di inaspettato per quanto riguarda la prole o per quanto riguarda una una passione un un modo di divertirvi una passione creativa o una passione che voi avete un modo di trascorrere il tempo libero si sa che la quinta casa è la casa dell'amore la casa dei figli quindi insomma c'è molti scendenti capricorno potrebbero partorire o scoprire di insomma di essere in procinto di diventare genitori potrebbe accadere questa cosa oppure potrebbero sviluppare una dar luogo dar vita una passione creativa dare inizio ad un'attività creativa alla quale pensavano da tempo potrebbero avere un nuovo amore un colpo di fulmine o vivere delle ore molto intense d'amore con il partner di di vecchia data insomma si sa che l'ascendente capricorno poi non cambia molto molto volentieri nonostante magari la se il settimo settore sia stato messo a dura prova negli ultimi negli ultimi due anni da insomma dai transiti quindi potrebbe anche esserci una rinnovata intesa arrivano anche delle notizie molto positive per quanto riguarda i soldi quindi sembra proprio che ci siano degli investimenti probabilmente conseguenziali alla novità che questa congiunzione porta nelle vite dei capricorno e del rascendente capricorno che insomma comporta delle spese importanti che però insomma andranno a consolidare il vostro come dire il vostro potere decisionale la vostra capacità insomma di di fare scelte di essere indipendenti insomma sia economicamente che effettivamente quindi è un momento di di grande crescita seppur insomma questa congiunzione marte urano faccia una lieve piccola dissonanza con con saturno e giove quindi insomma le conseguenze nonostante il beneficio potrebbero essere qualche spesa in eccesso questa potrebbe essere la la conseguenza di queste due settimane centrali qualche spesa in eccesso qualche spesa importante quindi la prospettiva di non so del famoso mutuo fatemi sapere nei commenti come si si rifletterà nelle nelle vostre vite questa qui parlo soprattutto dei capricorno dell'ascendente capricorno di dicembre e di primi giorni di gennaio o comunque insomma di prima e seconda decade vi aspetto nei commenti insomma tanti auguri per questi per questi transiti così così decisivi e così di ripresa dopo insomma dopo un biennio abbastanza impegnativo passiamo al segno del dell'acquario che soprattutto per quanto riguarda è nati in gennaio e nei primi giorni di febbraio tutte le persone che hanno un ascendente acquario ai primi insomma 10 15 gradi questa fantastica congiunzione urano marte avviene in quarta casa la quarta casa e il settore immobiliare il settore insomma dei componenti familiari quindi ci sono delle grandissime novità relative agli immobili o insomma qualche componente della propria famiglia potrebbe esserci un trasferimento la vendita di una casa l'acquisto di una casa qualcuno che parte qualcuno che ritorna ristrutturazione degli immobili insomma è molto familiare una congiunzione molto molto familiare molto molto immobiliare molto molto familiare questa questo transito eccezionale che non si verificava da 85 anni circa e voi vi siete ormai vi sentite pronti a con saturno sul sole però soprattutto dei nati in gennaio e gennaio primi giorni di febbraio e relativi ascendenti voi vi sentite pronti a prendere delle decisioni importanti quindi anche accollarvi delle dei progetti a lungo termine si sa che insomma l'acquario ama ama la propria libertà ama la propria libertà ama lasciarsi un certo margine di come dire insomma di di spazio di movimento di capacità di movimento però c'è saturno saturno sul sole sull'ascendente giove sull'ascendente insomma sono dei transiti molto importanti questi sono degli anni che sono delle vere pietre miliari nella vostra esistenza vi sentite pronti maturi maturati per fare sul serio e quindi ci sono anche relativi grandi impegni come l'acquisto di una casa andare a vivere insieme insomma mettere su famiglia lasciare il nido ristrutturare casa insomma e c'è tornare a casa dopo un lungo periodo di di giri del giro vagare come magari fa l'acquario quindi quindi c'è un momento di grande maturità per tutti quelli acquario per tutti quelli ascendente acquario che stanno cercando di fuggire a saturno fuggire alle responsabilità di saturno e continuare insomma a mantenere quella certa libertà siccome saturno chiama insomma quando saturno chiama bisogna in qualche modo rispondere perché io credo che sia sempre meglio essere proattivi e andare incontro al proprio destino prendendosi delle responsabilità altrimenti poi l'universo ce ne mette non dico a caso ma insomma è sempre meglio scegliersele quindi per tutte quelle persone che stanno fuggendo dalle proprie responsabilità arriverà qualche responsabilità insomma quindi qualche chiamata da casa e insomma vedremo ci sono delle giornate molto positive per esempio i giorni 14 e 15 insomma in queste due settimane centrali di gennaio molto movimentate molto intense magari ci sono le giornate dell'8 e del 9 gennaio che con l'alume scorpione sono sono un po sono un po tese insomma un po poco chiare quindi muovetevi poco agite poco fate non prendete grandissime decisioni perché potreste essere particolarmente offuscati arriveranno delle notizie a breve la fine del mese sarà ancora più piacevole di quanto non possa essere adesso quindi insomma ci sarà un momento di dopo l'intensità delle settimane centrali ci sarà un momento di affetto di tranquillità insomma di di maggior come dire comfort divertimento benessere e riconciliazione con qualcuno nel quale vi eravate temporaneamente allontanati quindi insomma forse coraggio arrivano due anni intensi ma di grande crescita che se sfruttati al meglio portano portano un grande cambiamento piccola chicca per tutte quelle persone che hanno l'ascendente primissimi gradi dell'acquario sta per iniziare anche per voi una svolta di vita a 360 gradi che si compirà entro due a due o tre anni quindi insomma grandi maturità il consiglio è non prendete decisioni avventate perché quello che voi pensate che possa cose fatte alla leggera quello che voi pensate che possa essere come dire poi insomma che si può cambiare potrebbe diventare invece difficile da cambiare perché sono transiti di di grande densità quindi insomma anche per voi non è l'anno delle cose per caso ponderate bene fate soltanto i passi cercate di valutare le conseguenze delle scelte che potreste fare in questo anno un grande faccio un grande in bocca al lupo anche a voi questi sono anni sono delle vere epitremigliari nella nella vostra esistenza vi aspetto nei commenti passiamo al segno dei pesci che come il cancro e come la vergine gode tantissimo e anche come il capricorno gode tantissimo di insomma di questo transito di questa congiunzione eccezionale marte urano comunque verrà verranno investiti da un energia molto positiva energia di cambiamento un'energia molto forte parlo del dei pesci di febbraio dei primi giorni di marzo di tutte le persone che hanno l'ascendente ai primi 10 15 gradi dei pesci e per voi questa congiunzione si forma nel terzo settore quindi il terzo settore il settore degli spostamenti dei trasferimenti delle notizie delle comunicazioni è il settore dei fratelli è il settore dei delle macchine dei mezzi di trasporto il settore dei corsi di studio quindi potreste concludere potrebbe arrivarvi un aiuto veloce e concludere brevemente potreste comprare la macchina nuova pensavate fino all'ultimo di non comprarla invece per arrivare una macchina nuova potrebbe arrivare un viaggio non molto lungo un trasferimento potreste decidere di prendere riprendere gli studi potreste decidere di interrompere gli studi potreste ricevere delle notizie di vostro cugino un vostro fratello che ha deciso di insomma di fare qualcosa insomma di una di cambiare qualcosa della sua vita questo per voi un periodo da quindi a circa 15 giorni state diventando un po introspettivi 2020 è stato molto molto generoso con voi è stato molto stabile vi ha fatto fare del fatto accadere delle cose che sono delle pietre migliori della vostra vita insomma non è stato un anno di cose per caso adesso inizia un periodo di grandissima introspezione che vi sta facendo fare il bilancio della vostra vita durerà un paio d'anni due anni e mezzo e poi sfoci ora in un grande cambiamento che sarà manifesto a tutti questo vale sia per l'ascendente pesci che per i pesci quindi momento molto introspettivo novità riguardo a spostamenti fra insomma cambiamenti cambiamenti però tutti questi cambiamenti sono una grande vi danno un grande coraggio avrete un grande coraggio nel se dovete partire se dovete fare un nuovo corso di studi se dovete raggiungere un cugino o un fratello avrete una grande energia un grande coraggio una grande forza no magari pesce a volte vorrebbero stare al centro dell'attenzione sono sempre molto emotivi invece questa questa congiunzione vi da lo sprint per partire sia che il pesci esce anche molto poco volentieri dalla propria zona di comfort e invece con questa con questa congiunzione potrebbe magari finalmente fare quel viaggio con lo spostamento quel trasferimento anche lavorativo che stava anelando è un gran periodo queste settimane centrali di gennaio sono anche molto interessanti al punto di vista delle amicizie vi ritrovate con qualche amicizia qualche nuova amicizia arriva nel vostro entourage oppure i cambiamenti che riguardano quegli spostamenti riguardano nuovi colleghi ecco questo è un momento molto molto positivo per come dire per risistemare l'organico se c'era qualche collega che vi dava fastidio con cui preferivate non lavorare è probabile che ci sia lo switch insomma che arrivi qualcuno più simpatico o comunque che voi veniate trasferiti in un ambiente nel quale lavorate meglio che questo insomma è una cosa molto molto interessante comunque se vedete che viti che vi ritirate che diventate un po introspettivi un po chiusi semplicemente è un momento di grande maturazione di poca voglia di ribellarsi perché si sa che i pesci sono imprevedibili grazie a quella dodicesima casa in acquario e insomma invece ci sarà anche una stabilizzazione dell'imprevedibilità dei pesci insomma state maturando questa è una cosa molto bella poi vedrete che tutti i cambiamenti che stanno arrivando adesso avranno luogo in primavera sbocceranno improvvisamente in primavera quindi anche trasferimenti e notizie che arrivano adesso porteranno dei grandi con dei grandi delle grandi conseguenze dei grandi movimenti e dei grandi anche dei grandi successi a catena che voi vedrete fra circa quattro o quattro mesi però comunque il cielo molto siete introspettivi ma il cielo è stabile il cielo è positivo vi aspetto vi aspetto nei commenti perché vorrei sapere che cosa vi stanerà dalla vostra zona di comfort e vi farà andare lontano quindi siamo arrivati alla fine del tema natale siamo arrivati alla fine del dell'oroscopo spero insomma di aver interpretato nella maniera più più concreta e più fedele alla realtà quelli che sono i futuri e insomma abbastanza sconosciuti effetti dei transiti della congiunzione di marte urano e anche lì in alcuni momenti quadrata giove saturno fatemi sapere nei commenti è un momento storico insomma abbastanza eccezionale e quindi anche come dico sempre come sto dicendo ultimamente faccio un passo indietro e mi metto da spettatrice insieme a voi a cercare di di vedere insomma che cosa ci porteranno questi anni che già so che saranno di grandissimo cambiamento per noi nel privato ma soprattutto nella nella società perché stiamo andando nel futuro quindi insomma aspetto i vostri preziosi feedback vi ringrazio ringrazio tutti quelli che sono arrivati fin qui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per essere informati quando pubblicherò un nuovo video e ci vediamo alla prossima al prossimo video che spero esca breve che sia quello delle previsioni del 2021 segno per segno vi mando un grande bacio ciao a tutti e grazie